L'abbiamo già detto in conferenza stampa, noi siamo stati il soggetto che ha proposto per conto dei sette comuni facenti parte del GAL questa ambiziosa candidatura. Non c'era la possibilità da parte di Ustuni perché l'aveva fatto già in precedenza per il 2018 e tutti i colleghi mi hanno dato la possibilità comunque a Ceglie di divenire ente propositore. La cosa bella è che in questo momento noi stiamo sancendo e stiamo ancora santificando ancora di più questo accordo che è un accordo oltre di programma, un accordo tra sette amici che hanno condiviso un progetto e vogliono condividere e dare ancora maggiore risalto al nostro territorio e maggiore impulso a quello che è l'operato di questo soggetto che è il GAL. Io ritengo che ci sono tutti gli ingredienti, tutte le condizioni per cui questo progetto davvero possa far bene, possa essere recepito per quello che merita e chissà con un po' di ambizione si possa anche pensare che possa poi questo territorio, un territorio fantastico sposato da questa luce stupenda ma da bellezze variegate, possa divenire davvero territorio della cultura per il 2020. Diciamo che l'idea è venuta alla Proloco di Ostuni che coinvolgendo Luigi Caro, il sindaco di Ceglie è stata prodotta la manifestazione di interesse. Per cui Ceglie Messario, essendo uno dei sette comuni che fa parte del GAL Alto Salento, è giusto che il GAL Alto Salento si spenda per il territorio, quello è uno degli obiettivi, tra gli obiettivi che tutti i gruppi di azione locale si pongono. Questo del capitale italiano della cultura 2020 è una bella sfida, noi lo abbiamo notato quando ci siamo candidati, i tempi erano ristrettissimi, sapevamo che era un percorso in salita, però non ci si deve demoralizzare anche vedendo gli altri partecipanti. C'era una città, Palermo è arrivata, è stata nominata capitale italiana della cultura 2018, ma questo non significa che il nostro territorio nel suo insieme, quindi partendo da Brindisi, San Vito, Carovegno, Ostuni, Ceglie Messabico, Villa Castelli, San Michele Salentino, inteso come territorio che ha un patrimonio culturale, paesaggistico, enogastronomico di tutto rilievo. I nostri luoghi oramai sono la ciliegina sulla torta che è la Puglia, che è la torta più appetibile a livello turistico dell'Italia meridionale e dell'Italia in genere. Quindi bisogna lavorare tanto, bisogna, come si è detto prima, immaginare di stimolare un dossier, preparare un dossier abbastanza corposo, gli elementi ci sono tutti, e far interagire anche personaggi importanti che esistono sul nostro territorio. L'insieme di tutte queste componenti ci permetterà di ben figurare e come obiettivo almeno quello che questo territorio entri nella short list e quindi possa aspirare poi al premio finale che è capitale italiana della cultura 2020. Abbiamo tutte le potenzialità sul territorio, bisogna coinvolgere tutti. Noi abbiamo messo a disposizione tutta l'esperienza accumulata con Ostuni, capitale italiana della cultura 2018 a disposizione del GAL Alto Salento 2020 SRL. Diciamo che la nostra idea era quella di mettere insieme sette comuni, i sette comuni facenti parte del GAL, per lo sviluppo di tutto il territorio brindisino, dell'Alto Salento. Anche se ci sono state delle defezioni che noi conosciamo come il comune di Brindisi, come il comune di Carovigno, nel senso che sono cadute le giunte, però diciamo loro erano e sono presenti nel futuro dossier del GAL Alto Salento 2020.